Amici del mio genio, ecco come copiamo le chiavi a New York queste chiavi di casa inserita scelgo la decorazione, mi piace questa devo pagare cambio perché quella me la spedivano a casa invece la voglio fare adesso adesso devo pagare qua fatto quasi fatto ragazzi sta quasi finendo vediamo quando esce sentite il rumore, la mia chiave sta qui uscirò con la chiave fatta eccola qua ragazzi ecco la nuova chiave questa me la posso prendere ho la chiave il computer può salvare anche la mia chiave può salvare la mia impronta digitale adesso vi spiego perché quale motivo ragazzi è molto semplice perché questo è aperto 24 ore se io perdo la chiave posso tornare qua e con l'impronta digitale si ricorda qual è la mia chiave e me la danno due chiavi a posto di uno dietro di me stanno litigando va bene ciao